Riesce a terminare la gara, la sua ultima gara, scendere dall'auto una 112 gialle e dopo qualche minuto muore. E' accaduto ieri pomeriggio in contrada mista a modi che in occasione della sesta edizione dello slalom del Mediterraneo. Il pilota Corrado Perolini di 55 anni, originario di Noto, dopo aver tagliato il nastro intorno alle 15, ha avuto il tempo di sedersi su un carrello e fare una telefonata, poi si è accasciato al suolo colto da un malore fulminio. A nulla è servito l'intervento dei sanitari presenti con l'ambulanza a supporto della manifestazione sportiva. Sul posto anche le forze dell'ordine. Un pilota di vecchia data che ha sfrecciato sulle strade di mezza Sicilia come Avola, Monte Rosso, Rosolini, Melilli, Giaratane e altre ancora. In queste immagini lo si vede tre settimane fa correre sull'asfalto di Caltagirone per il secondo slalom della città. Corrado ieri però ha trovato quel destino beffardo che gli ha fatto completare la sua ultima gara, ma appena messo piede a terra ha iniziato a accusare una fitta lacinante alla testa. Come detto per lui non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi il pilota era già privo di vita. La passione per i motori Corrado Perolini ce l'aveva nel sangue da meccanico di lungo corso qual era e grande appassionato di corsi automobilistiche con la sua fidata 112 gialla. Corrado Perolini era molto conosciuto a nodo. Ieri era stato accompagnato dal figlio con il quale lavorava anche in una panineria. Poco prima della partenza lo aveva anche raggiunto sul posto dove si trovava per portargli del mangiare, ma il padre aveva rifiutato. Mangiò dopo per non rischiare di sentirmi male, aveva detto al figlio. Corrado era un uomo eclettico, attivo con la passione per i motori, ora portato via da un malore fatale. Una gara triste, quella di ieri, è caratterizzata anche da altri incidenti, fortunatamente tanto violenti quanto poco gravi. Come si vede in queste immagini, un'altra auto a ridosso di una curva si è schiantata contro il muro frontale prendendolo in pieno. Il pilota è stato soccorso dal 118, trasportato al pronto soccorso dove è stato preso in cura dai medici della struttura sanitaria. Il ferito, come si diceva prima, si trova per fortuna in condizioni poco preoccupanti. La manifestazione è stata annullata.